Oggi siamo qui con uno dei nostri attori preferiti, Twingo. Sono qui con lui per farvi vedere che è il caso di controllare le mucose del vostro cane. Semplicemente, anche già quando hanno la bocca aperta, potete verificare il colore delle mucose. Lui è un cane giovane in buona salute, infatti sono piuttosto rosa. Nel caso in cui fossero o eccessivamente arrossate o grigiastre, è un segnale probabilmente di un'intossicazione o di un'infiammazione. Potete agire intervenendo con dei prodotti specifici che aiutino ad eliminare le tossine dal fegato come Epadetox o nel caso in cui si trattasse di un cane anziano col desmodio. Poiché la semplice pulizia epatica non è sufficiente, è necessario intervenire con una pianta come il desmodio che favorisce la rigenerazione delle cellule epatiche.